Le sensazioni di quest'anno sono positive, abbiamo lavorato prima per avere un buon numero di contatti e li aspettiamo tutti, siamo certi di un buon risultato quest'anno. Con quali produzioni presentate l'azienda? Quest'anno abbiamo la bellezza di nove etichette, tra cui un nuovo Merlot che esce in purezza imbottigliato proprio due giorni fa, che presentiamo per la prima volta. Una fantastica vendemmia tardiva di Sauvignon, che è la vendemmia 2017, che si è prestata proprio per la particolarità della stagione, ci ha dato un ottimo risultato su questo vino e poi con le nostre etichette storiche, che vanno dal cortese al timorasso, chiaramente, per quanto riguarda i rossi, le barbere, una croatina e una chicca molto molto particolare che è un Petit Verdot. Mercato dall'estero? Come si muove? Si muove, siamo in fase di crescita. Quest'anno aspettiamo sicuramente contatti nuovi che, mi auguro, porteranno a uno sviluppo ulteriore, come è stato finora. Grazie. 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 Grazie.